Ciao ad Alessandro per il blog Nexus Lab oggi andremo ad analizzare insieme Google Drive il nuovo servizio di storage online di Google integrato sia su sistemi Windows, Mac e Android presto dovrebbe arrivare anche l'integrazione ufficiale per i sistemi Linux andiamo ad aprirlo Google Drive offre gratuitamente 5 GB di storage online ampliabili tramite degli appositi abbonamenti trovate il dettaglio di questi abbonamenti sull'articolo scritto su Nexus Lab allora questa è l'interfaccia interfaccia che ricorda molto i servizi di Google come potete vedere abbiamo anche delle indicazioni in cui ci indica che la dashboard ci consente di switchare tra i diversi account abbiamo anche il logo di Drive che ci consente anche di tornare alla pagina precedente ok vi posiziono meglio il tablet così riuscite a vedere meglio abbiamo un menu a sinistra contestuale con i miei file condivisi con me speciali, recenti e offline offline cosa sarebbero? praticamente se io adesso tutti questi file che io vedo non sono sul dispositivo se io voglio renderli sempre disponibili anche offline possiamo rendere disponibile offline e lui lo andrà a scaricare utile nel caso che noi ci trovassimo in zone in cui internet non prende oppure per scaricare file tramite wifi in casa file molto pesanti che non ci consentirebbero lo scaricamento in mobilità abbiamo anche la possibilità di indicare degli speciali con solite stelline presenti in Gmail o in altri servizi tipo Google Reader solite abbiamo anche altre impostazioni di acquisizione di file abbiamo la possibilità di creare un nuovo documento un foglio di lavoro documento da una foto e caricare elementi già esistenti sulla memoria molto interessante documento da una foto vi faccio vedere noi adesso andremo a effettuare una foto proviamo a prendere il nostro logo cosa farà adesso il sistema andrà a convertirlo facendo fine direttamente la foto sfocata lui ci dice anche in questo caso che la foto gli risulta un po' sfocata però gli diciamo di continuare lo stesso lui in questo momento ci sta dicendo in che account verrà caricato questo documento perché verrà convertito come potete leggere in un file di documento Google molto interessante perché così avremo proprio un file di testo contenente questa immagine adesso andrà caricamento completato abbiamo importato dalla fotocamera andiamo a aprirlo come potete vedere abbiamo Google documenti e non il visualizzatore di immagine andiamo a editare come potete vedere ci ha caricato l'immagine correttamente possiamo anche andare a scrivere sotto sopra ciao da Nexus l'app ok finiamo come potete vedere abbiamo editato direttamente sotto la foto scattata direttamente riconvertita in Google Documents torniamo indietro come potete vedere l'icona in altro viene trasformata e ci consente di tornare sempre indietro contestualizzando al menu contestuale precedente abbiamo anche la possibilità di ricercare come in ogni servizio di Google in più possiamo ordinare per titolo modificati per ultimi ultimi aperti da me e mia ultima modifica possiamo anche inviare i commenti sul come feedback a Google possiamo anche includere degli screenshot eccetera eccetera quindi per adesso un servizio che funziona un servizio che offre 5 gigabyte di memoria vi ricordo gratuitamente si sincronizza la perfezione con Android con Windows e con Mac anche con Wine su Linux provato e funziona naturalmente consiglio di aspettare magari la versione ufficiale una funzione che aumenta le potenzialità di Android ricordo che comunque ci sono servizi come Dropbox concorrenziali box.net però Google Drive ha il grande vantaggio di non avere quasi limite per il minimo pacchetto caricato ovvero se su Dropbox adesso non mi ricordo precisamente ma abbiamo un limite tipo di 200 mega a pacchetto pensiamo un file zip o un video su Google Drive questo è molto maggiore supera di gran lunga i 5 gigabyte quindi si può pensare ad una condivisione nei contenuti massivi su questa piattaforma direi che è tutto un saluto da Alessandro per Nexus Lab che è stato